ciao prego come stai? bene? eh sì è iniziata l'estate quindi cambio stagione cambia pettinatura abbiamo deciso ok va bene allora dimmi un po' qual è la tua idea se ne hai già una ok quindi un taglio un po' più comodo per l'estate sì quindi un po' più corto tipo i miei ancora di più ok colore no sì infatti vedo che sta tenendo bene quello che abbiamo fatto l'ultima volta ok e piega perfetto va bene allora io direi di cominciare subito prima volevo chiederti una cosa però quando è stata l'ultima volta che hai lavato i capelli? ah quindi hai proprio appena appena lavati beh allora dato che non facciamo nessun colore io direi di non stare a rilavarli tutti proprio perché i capelli con gli shampoo eccetera rischiano un po' di rovinarsi ti spruzzo solo un po' di rovinarsi ti spruzzo solo un po' d'acqua per facilitare il taglio ok perfetto allora aspetta che ti copro un po' gli occhi e ti spruzzo solo un po' di rovinarsi e ti spruzzo un po' d'acqua per inutirli e ti spruzzo un po' d'acqua per inutirli io mi voglio fare un ultimo ok 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 allora prima di iniziare voglio avere le idee ben chiare quanto li vorresti tagliare cioè mi hai detto un taglio un po' più corto del mio però tu hai già abbastanza i capelli hai già i capelli abbastanza corti quindi vuoi una spuntatina o poco più di una spuntatina poco più di una spuntatina ok quindi eliminiamo le doppie punte e sistemiamo il taglio lo preferisci pari come il mio anche se non si vede perché ho i capelli abbastanza mossi oggi o con una piega un po' più scalata ok quindi i capelli non li vuoi scalati ma vuoi un taglio un po' più diciamo svasato ok perfetto adesso che ho capito bene quello che è why iniziamo il taglio di tiro su un po' i capelli ok ok allora inizio quindi così va bene sì sì perfetto aspetta che sciogliamo gli altri capelli così li taglio ok hai programmi per quest'estate? ancora no? ancora no? beh dai prima bisogna capire che è iniziata poi si pensa a cosa fare anch'io sono ancora un po' sulle nuvole ok ok ancora un pochino di rai sì ok 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 va bene, ancora un po'? si certo il ciuffo lo vuoi pari? un po' più corto? ok va bene un attimino ok si forse qua un attimino bisogna pareggiare ok va bene perfetto adesso io te li infonerei che dici? vediamo un po' che vegan esce fuori e decidiamo cosa fare ok perfetto allora ok 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 ti passo un po' di piastra prima però ti metto un po' di olietto ok questo qua questo qua che è un olio con dentro tanti olietti e ha principalmente una funzione termoprotettiva quindi così i capelli non si rovinano con l'uso della piastra è emolliente ovviamente però non assolutamente grassa si tranquilla ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se ti piace poi ne possiamo mettere anche un po' dopo la piastra in modo tale da renderli i cavalli ancora più morbidi e meno crespi. Ok, passiamo un pochino alla piastra. Uso quella piccolina così sono più precisa. Allora... 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 Allora...